Musica Buona prima ragazzi, qui è Giustizio e siamo tornati con questo video veramente euforico Perché infatti oggi come avrete ben visto dal titolo andremo a provare Garrett Bale ATT che io ho trovato però su un altro account Quindi ho venduto quell'altro e ho comprato questo qui Ho fatto 6 partite, 4 gol però non fateci caso Perché almeno 3 partite l'avversario ha quittato Quindi dettagli Comunque questa è la squadra che ci ha costruito attorno Un'ibrida euforica veramente Basta dire euforico Un'ibrida veramente eccezionale con 2 5 star skiller ai lati Ossia Neymar e Quadrato E niente andremo a fare 1-2 partite Per vedere un po' che cosa succede Vi farò vedere un po' la potenza di questo giocatore qui in video Fin da subito lasciare un bel mi piace E fatemi sapere di quale altro giocatore vorreste la prova diciamo in live Una partita incredibile Ok andiamo a vedere la squadra del nostro avversario Cos'è questa cosa? What is this? 50 rintesa con 2 centrocampisti in difesa Ok questo quitterà dopo circa 3 secondi Non successe un caso per i primi 45 minuti Perché l'avversario si è messo in difesa a ultranza Finché Vai Bale Bale Finalmente Finalmente Questo sta venuto nella difensiva Tutto il primo tempo Maledetto Grande qui in bucata di Neymar Per Bale Che in un attimo La mette lì La mette lì Trova il pertuggio Fine primo tempo Partita stra dominata Non dominata Stra Dominata Ma con tiro affatto Siamo solo 1 a 0 Perché si è chiuso in ultradifensiva Dal primo minuto Cazzo Vai 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 Neymar Vai Neymar Vai Neymar Neymar grandissimo Vai Neymar Neymar Il tiro Rete Gran gol Gran gol di Neymar Mamma mia che gol Neymar Che gol Neymar qui Mamma mia Mamma mia Neymar Che gran gol Che gran gol Che gra Gol Mamma mia 2 a 0 Bale se ne va 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 No Porca puttana E lì Bale Io lo vedo Lo vedo Bale Eh Rigore Calcio di rigore Calcio di rigore Lo batterà Garrett Bale ovviamente Garrett Where are you Garrett Vai Garrett Garrett Bale Attenzione Sul dischetto Non ha tantissimo di rigore Ma sti cazzi Oddio ho preso il giallo Boo Garrett Bale 3 a 0 Mamma mia Questo è proprio un cane Perché si era chiuso in difesa dal primo minuto Però lo stiamo arando lo stesso Perché non ha una squadra fondamentalmente Neanche troppo scasso ma non ha una squadra Quindi è normale Mamma mia Bale però Grande rigore qui Davvero bomber Ci portiamo sul 3 a 0 Incredibile Ancora Bale che recupera Bale è scatenato Attenzione La doppietta la La fomenta Uuuuh Attenzione Fallaccio qui C'è la Bale che era in fuorigioco Attenzione Quadrato 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 Bale E qui vabbè Facciamo segnare Bale Perché sì Perché siamo delle merde Fino alla fine Questo ha fatto la merda Mettendosi in difesa Oltranza Per tutta la partita E noi facciamo le merde Facciamo le merde Bale ancora Stiamo dilagando Stiamo dilagando Stiamo dilagando Mamma mia Garetto Bale Garetto Bale Garetto Bale Garetto Bale Garetto Bale Garetto Bale Qui la bicicletta Che non mi viene Come al solito Perché non so skillare James per Bale Bale ancora per James 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 Palla per Quadrato 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 6 a 0 Qui signori 6 a 0 Qui signori E stiamo dilagando Questo Non c'è più ormai Non è più In se stessa Grandissimo 6 a 0 Quadrato Quadrato Partita che finisce qui Signori 6 a 0 Ma io non ho parole Per descrivere questo giocatore Va bene che questo Non aveva una squadra Ma fidatevi Che non è stato facile Soprattutto il primo tempo Perché si era chiuso In difesa Aveva 11 giocatori 10 giocatori Senza il portiere Dietro la linea Della palla Era veramente una tortura A giocare contro di questo Dopo il primo gol Invece Si è sbilanciato E l'abbiamo distrutto Ovviamente Perché non aveva Una squadra Bene signori Il video finisce qui Ci sono stati ben 6 gol Altrimenti avrei fatto Un'altra partita Se no il video dura troppo Quindi io vi invito Come al solito Lasciate un bel mi piace E consigliatemi Ovviamente Altri giocatori Dei position change Dei international position change Da provare Bale l'ho voluto provare Come RTT Perché secondo me È qualcosa di devastante Vedete 7 partiti 8 gol Ma veramente Non ho parole Per descrivere Questo giocatore Quindi provatemi Altri giocatori Proponetemi Altri giocatori A provare Anche giocatori Cambiati di ruolo Tipo Alaba Come abbiamo provato Alaba attaccante Insomma Noi ci vediamo Un prossimo video Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se ancora avete fatto Passate al grafico Link in descrizione Ci vediamo Al prossimo video Ciao